Tra le cose che mi è capitato di fare in questi mesi e che non avevo mai fatto cercando di tenermene rigorosamente alla larga, è stato di frequentare con una certa intensità questi studi televisivi dove si entra e si cerca di raccontare nel modo migliore che si sa le cose nelle quali si crede e ha ragione Sergio che l'ha ricordato, sono stato più volte dico rimproverato, ma insomma ripreso da questo punto di vista perché mi è stato detto che non boccavo il video e dopo una certa età sono cose che fanno dispiacere perché uno no perché uno si era fatto anche delle idee su... io uscivo da lì e tutto sommato trovavo sempre conforto nella giustificazione a posteriori che magari sarà stato pure vero, che non lo bucavo il video, ma che da troppo tempo noi non bucavamo le coscienze. Grazie a tutti!